ciao belli e la rega vai saluta fede ma per io tutto sì ovvio ciao bella allora vi spieghiamo un attimo se lo dicono noi siamo andati a bere una coca cola molto buona tra l'altro e fermerò al momento accanto a te ciao le facce dicono tutto ancora che cosa hai racconta ai nostri fan sto male perché mi sono scompato cosa abbiamo fatto basket quant'è che non giocavi a quant'è che non correvi tre anni solo solo tre vede saluta sono i nostri fan di youtube un saluto un po più energico ma cos'è questo film ma che stavo guardando non lo saprei ma è bellissimo dai forse così ci fai giubbò fede dai racconta sono male ma ragazzi il mio il mio compagno ha trovato una fidanzatina era già adesso vero fede fidanzamento degli ultimi dieci secondi ragazzi quindi diventerà solo matte il canale perché fede scomparirà vero fede e lo sottuisce i suoi film ah ridi mi prendi anche il giro due sberloni due sberloni due sberloni ragazzi facciamo io e te il canale facciamo io e facciamo matte e fillo matte e fillo ragazzi tutti ragazzi su questo nuovo canale ragazzi nuovo canale ha dovuto rinunciare al canale per evidenti motivi ha trovato una ragazza come metà amici di tutto il mondo scopare quindi sono diventato io facciamo matte e fillo matte e fillo ragazzi adesso questione di tempo e matte e fillo matte e fillo raga un milione di iscritti eh one million one million ragazzi allora il punto di tutto ciò che voi vi starete chiedendo perché perché ragazzi il nostro canale ha un precisissimo scopo quello di far cagare adesso metterò la canzone addio addio amici addio vai fede addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare di special un po' come matte e fede siamo speciali togli sembri non dico niente togli quel cappuccio non come i beatles yes bitch which fucking le metto dal mattino eeeh eeeh fede 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 sei ancora il mio compagno di youtube no certo ma che faccia con sta voglia lo dici ma che Grazie a tutti.